Torna il Gran Premio del Brasile nel calendario di Formula 1 e ci regala una gara assolutamente spettacolare con una vittoria di forza di Lewis Hamilton che accorcia nella lotta al titolo del mondo con Max Verstappen in una gara che è stata vinta di forza letteralmente dal pluricampione inglese che si aggiudica la centunesima vittoria in carriera al termine di un weekend in generale totalmente folle che ha visto penalizzazioni, manovre al limite, probabilmente penalizzazioni mancate, muretti che boicottano le gare alla gente insomma un Gran Premio del Brasile che come da tradizione mi verrebbe da dire regala tanto spettacolo e finalmente ci ripaga di una vera lotta in pista tra i due contender principali di questo mondiale e dunque dopo aver parlato nella Racing Podcast di ieri del GP di Valencia parliamo approfittamente di questo Gran Premio del Brasile anche in questo caso il podcast è registrando domenica sera voi invece lo vedrete lunedì alle ore 13 verosimilmente in tempo per il pranzo e vi godete un Racing Podcast veramente interessante perché a differenza della gara del Messico per cui non ho parlato sul canale nel Racing Podcast perché la gara del Messico è una delle più brutte degli ultimi vent'anni il Gran Premio del Brasile regala una gara spettacolare che si conclude con la vittoria di Lewis Hamilton una vittoria veramente di prepotenza e cattiveria un Hamilton che ha dimostrato fin dalle qualificazioni del venerdì perché qui c'era anche la sprint race di avere un passo nettamente superiore alla concorrenza pur in questo caso non avendo la macchina migliore perché ricordiamo che nel corso del campionato la Red Bull è la macchina migliore ma ad Interlagos era la Mercedes la macchina da battere ed Hamilton infatti lo ha dimostrato mezzo secondo di fatto in qualificazione dato alla gente e poi un passo gara allucinante per quanto riguarda la domenica si pone però un problema tra il venerdì e il sabato per un'irregolarità dalla posteriore Hamilton viene squalificato dalla qualificazione dunque dovrà partire ventesimo nella gara sprint una gara sprint che vede già una dimostrazione di quello che sarebbe stato il GP della domenica di Hamilton una rimonta da ventesimo a quinto faceva già presagire appunto una gara incredibile alla domenica ulteriore problema però Hamilton per una penalizzazione ulteriore causa appunto a un cambio se non sbaglio di una componente del motore endotermico deve retrocedere di altre cinque posizioni per cui da quinto passa a decimo e poi da decimo andrà a trionfare appunto sotto il pubblico di Interlagos che era tutto per il pilota inglese è stata una gara che è stata poi peraltro combattuta in pista un po' contro le perspective della vigilia perché ci si aspettava più una gara di strategia con appunto undercut abbastanza efficaci o appunto scelte di gomme diverse tra Red Bull e Mercedes cosa che in realtà non c'è stata ma c'è stato appunto un duello letteralmente in pista appunto fatto di manovre un po' al limite e in alcuni casi sorpassi decisamente importanti da parte di Hamilton e qui vediamo il sorpasso decisivo che appunto viene effettuato in fondo al rettilineo dopo la S2 Senna dove Hamilton dall'esterno con DRS aperto dopo aver rincorso Verstappen giri su giri riesce ad avere la meglio del pilota olandese appunto parliamo dall'esterno che è un sorpasso non convenzionale perché di solito in curva 4 in Brasile si passa dall'interno alla fine con una trazione migliore e appunto la chiusura poi del sorpasso l'inglese ha la meglio effettivamente di un Verstappen che qui ha cercato di difendersi in tutti i modi possibili e immaginabili spesso andando anche oltre quello che è il regolamento sempre appunto in questo rettilineo per cui torniamo all'immagine precedente Verstappen fa del waving che in gergo tecnico è sportarsi ripetutamente a zigzag durante appunto il percorso del rettilineo per appunto far togliere la scia al suo diretto concorrente che però è una manovra illegale tanto è vero che Verstappen verrà giustamente ammonito il duello in realtà poi ha proseguito anche nei giri precedenti è stata poi una manovra ulteriormente al limite sempre in questo punto dove Hamilton tenta ancora il sorpasso all'esterno Verstappen è leggermente dietro l'olandese però tira giù una staccata come se non ci fosse nessuno e alla fine sia Hamilton che Verstappen finiscono entrambi larghi fuori pista era una manovra come dicevano in telecronica quelli di Sky quantomeno da investigare alla fine non è stata combinata nessuna penalizzazione a Max Verstappen in questo caso la direzione di gara ha scelto per il liberi tutti correte lo stesso quantomeno dal mio modo di vedere un'investigazione ci poteva stare perché effettivamente dal replay si vede che Hamilton è effettivamente davanti al pilota olandese che comunque attira una staccata della madonna e dall'onboard di Hamilton si vede che comunque Verstappen non fa la curva all'interno che avrebbe potuto tranquillamente fare ma effettivamente va dritto cercando appunto di accompagnare Hamilton fuori cosa che peraltro avviene puntualmente ed è una penalizzazione mancata un po' strana quantomeno non la penalizzazione ma l'investigazione semplicemente perché nel corso del campionato abbiamo visto spesso i commissari investigare per molto meno e anche penalizzare per decisamente episodi che al confronto di questo sembrano una passeggiata di salute e qui però torniamo a un annoso problema che è una varietà eccessiva dei commissari ci vorrebbe sempre la stessa commissione per 23 gari in modo che il metro di tutti sia sempre quello e non che a ogni gara uno può fare una manovra e alla gara dopo fa la stessa manovra e viene penalizzato e viceversa ovviamente di conseguenza anche qui è una decisione molto dura quantomeno l'investigazione andava fatta perché comunque Hamilton tenta un sorpasso all'esterno che poi riproporrà qualche giro dopo e infatti lo compierà Verstappen pur appunto avendo una manovra non convenzionale da affrontare ovvero appunto il sorpasso all'esterno di Hamilton allunga la staccata come se di fatto non ci fosse nessuno in ogni caso la gara l'avrebbe vinta lo stesso Hamilton perché il pilota inglese ha tagliato il traguardo con di fatto 10 secondi di vantaggio su Verstappen che qui ripeto non ne aveva Hamilton era un uomo da battere nonostante partisse ventesimo nella gara sprint e decimo nella gara ufficiale appunto mezzo secondo in qualificazione non lo dai per sbaglio alla gente devi avere comunque una macchina che ti consente di fare queste rimonte e notoriamente la Mercedes è una macchina che storicamente fa questo tipo di rimonte non era però così scontato perché sappiamo tutti che in questo campionato del mondo la Mercedes non è la macchina migliore e di conseguenza ci si poteva aspettare un Verstappen che da davanti effettivamente avesse potuto avere una difesa migliore rispetto a Hamilton cosa che non è stata alla fine Hamilton vince di forza la 101esima gara in carriera e accorcia nella rincorsa al titolo del mondo su Max Verstappen che comunque è sempre il leader a 332 punti, virgola 5 contro il 118,5 di Hamilton donna e terzo è Gualtiero Percosse in arte, Valtteri Bottas che ha il team radio più bello della gara cioè con la strategia della Mercedes ci avete rovinato una doppietta facile che in realtà non è così sbagliato perché questo secondo me è anche merito della Red Bull che fa una seconda sosta anticipata di tantissimo mantenendo sempre le stesse gomme in particolare prima con Perez e poi con Verstappen alla fine la Mercedes si ritrova a fare la stessa strategia accoppiando quella della Red Bull e in qualche modo una doppietta che sembrava effettivamente scontata o quantomeno in procinto di essere confezionata dalla Mercedes viene bruciata da questa strategia abbastanza rivedibile del box Mercedes che notoriamente è difficile che sbagli le strategie ed effettivamente poteva essere un 1-2 anziché un 1-3 alla fine per il campionato costruttori va benissimo così perché primo e terzo è meglio che secondo e quarto e per Hamilton alla fine si tratta di una rincorsa che è ancora molto difficile perché comunque sono 13 punti di distacco rispetto a Verstappen e abbiamo ancora tre gare dalla fine e Verstappen non è sempre detto che abbia così tante difficoltà come appunto oggi in Brasile di conseguenza è vero che Verstappen è sempre favorito perché chi è davanti ha la legittimità del favoritismo dell'assegnazione del titolo del mondo ma battere questo Hamilton è abbastanza come dire non così scontato di conseguenza al netto che oggi il box Mercedes ha qualche responsabilità per una strategia che poteva essere migliorata la vittoria di Hamilton è indiscutibilmente meritata una vittoria che effettivamente dimostra quanto effettivamente Hamilton sia un fenomeno e un campione di un certo livello perché pur non avendo in generale la macchina migliore è sempre chiamato a metterci qualcosa del suo nelle ultime gare non è stato così oggi però su questa pista in particolare Hamilton aveva la macchina migliore e infatti oggi l'ha dimostrato come una vittoria veramente perentoria gli altri piazzamenti quarto Sergio Perez che ruba il giro veloce e quindi porta un punto addizionale alla Red Bull un Perez che comunque ha fatto una gara più che onesta la Ferrari fa ancora una volta la gara che doveva fare con appunto la dimostrazione ennesima che sono la terza macchina in pista quantomeno in questo periodo con quinto Charles Leclerc e sesto Carlos Sainz che aveva comunque compiuto il miracolo nella gara sprint che appunto lo ha visto partire in terza posizione purtroppo non ha capitalizzato questa grande partenza ovvio la Ferrari non poteva competere con i big four di questo momento della Formula 1 ovvero le due Mercedes e le due Red Bull comunque solidamente terzi a discapito di una Mia McLaren che oggi veramente after the music con Ricciardo ritirato e Landone Norris decimo McLaren peraltro oggi in mezza delusione del giorno in settima posizione abbiamo Pierre Gasly che comunque anche lui fa una solidissima gara in settima posizione si conferma comunque ancora un pilota da ampia top 10 il pilota francese che peraltro a me piace tantissimo ottavo l'altro francese del campionato ovvero Esteban Ocon con la prima delle due Alpine Ocon che torna ad avere la meglio rispetto a Fernando Alonso dove effettivamente il pilota spagnolo spesso dava la paga al pilota francese e decimo appunto Landone Norris che come in Messico fa una gara assolutamente in colore e si avvia a difendere la quinta posizione ai danni di Charles Leclerc che invece sta dimostrando di essere migliore quanto meno di Landone Norris ma in generale è la Ferrari che spesso ultimamente è meglio di McLaren parentesi importante su Antonio Giovinazzi che ancora una volta finisce fuori dai punti hanno fatto tanto parlare le dichiarazioni giuste di Giovinazzi contro il suo team team che peraltro lo ha scaricato l'anno prossimo infatti il sedile di Antonio Giovinazzi sarà occupato da Guanio Zhou pilota cinese che sarebbe del Renault Junior Team ma che appunto per via del fatto che è cinese e porta una valigia importante viene schierato al fianco di Valtteri Bottas l'anno prossimo in Alfa Romeo a punto di scapito di Antonio Giovinazzi che è da 5-6 gare che gli boicottano praticamente qualunque saggia possibile immaginabile con tanto di polemiche in Messico con Team Radio al vetriolo dei Giovinazzi contro il team effettivamente le strategie di Alfa Romeo contro Giovinazzi sono abbastanza evidenti e palesi ed è un peccato che appunto venga scaricato in modo così evidente senza possibilità di ribattere anche perché Giovinazzi purtroppo non avrà un sedile l'anno prossimo in Formula 1 Giovinazzi ha tutta la mia solidarietà per quanto possa contare perché ripeto secondo me è un pilota che può starci in questa Formula 1 se ci stanno piloti del calibro di Lance Stroll o Nikita Mazvin che sono palesemente piloti paganti o lo stesso Guagno Zhou che per carità io seguo anche la Formula 2 come sapete ed è un bel talento in realtà Guagno Zhou ma che deve ancora dimostrare tanto peraltro Guagno Zhou il titolo di Formula 2 non lo sta vincendo e probabilmente lo vincerà Oscar Piastre meno di miracoli fa capire che effettivamente in alcuni casi è vero che la valigia e i soldi comandano però insomma è un peccato vedere che appunto Giovinazzi sia fuori dalla Formula 1 almeno per l'anno prossimo e gente molto meno talentuosa di Giovinazzi sia evidentemente per ovvi motivi in Formula 1 ma sappiamo che la Formula 1 purtroppo non è dei poveri o del popolo ma ovviamente spesso abbiamo visto piloti paganti con la valigia prendere posto con piloti che quantomeno in Formula 1 ci possono stare al netto che Giovinazzi non è il talento più castiglio dal Formula 1 ma di certo non è neanche l'ultimo dei fermi è un quattordicesimo posto che rispecchia un po' il valore dell'Alfa Romeo in generale che comunque batte chi deve battere e perde con chi deve perdere in Brasile c'è stata poi ulteriormente e qui poi concludiamo la gara sprint una gara sprint che è stata bella semplicemente per il fatto che Hamilton partiva ventesimo grazie alla penalità appunto della irregolarità dell'ala posteriore una gara sprint che sinceramente fatta così non ha assolutamente senso l'abbiamo visto sia a Silverstone che a Monza gli unici sorpassi appunto li ha fatti Hamilton perché doveva rimontare e arrivare il più avanti possibile per il resto più o meno a parte Sainz che ha fatto una partenza incredibile con le gomme morbide le posizioni sono state più o meno cristallizzate e poi aggiungo una cosa se l'anno prossimo ne vogliono introdurre anche 6 o 7 cosa che peraltro è stata confermata da Patron Domenicali sarebbe meglio quantomeno aumentare i punti da assegnare perché fare una gara sprint con 20 piloti che poi vanno a punti i primi 3 con 3, 2 e 1 punto non ha assolutamente senso piuttosto fate come in Superbike dove dimezzate i punti e come in Formula 2 e in Formula 3 che almeno diamo alito anche a tutti gli altri piloti che sono oltre alla terza posizione peraltro i due punti con il set da Verstapp negli 0 di Hamilton hanno spostato abbastanza poco in un'ottica peraltro di 330 punti a disposizione ce ne sono 75 poi ulteriormente da assegnare da qui ad Abu Dhabi e due punti in più in meno ok che in un campionato di questo tipo possono fare la differenza ma a lungo termine onestamente non credo che Hamilton possa recriminare di aver perso due punti soltanto in una gara sprint anche perché verosimilmente basta che Verstapp gli arrivi davanti tutte le altre gare e che il mondiale sia bel che deciso probabilmente anche prima di Abu Dhabi peraltro adesso ci saranno tre gare consecutive in Formula 1 il trittico del Medio Oriente a partire dal prossimo weekend si correrà in Qatar storico circuito del moto mondiale si andrà poi sul nuovo circuito di Jed in Arabia Saudita per inizio dicembre si chiuderà ad Abu Dhabi con il nuovo layout al 12 di dicembre ovviamente per ogni competizione che vi ho citato ci sarà il racing podcast dedicato il prossimo appuntamento invece per quanto riguarda il canale sportivo sarà venerdì che parleremo del pagellone il primo stagionale per quanto riguarda il moto mondiale con i format promossi e bocciati e poi parleremo della superbike in Indonesia che dovrà decidere il titolo tra Rasgati Oglu e Jonathan Ray e poi si parterà a bomba con il trittico del miglioriente di Formula 1 quindi anche lì tanta attività in inverno per il mio canale prima di addentrarci alle olimpiadi invernali e agli sport dello cinordico che seguo di solito in ogni caso fatemi sapere che cosa ne pensate di questo racing podcast per quanto riguarda il GP del Brasile come una vittoria strameritata per Hamilton per cui suona per la centunesima volta in carriera God Save The Queen secondo Michael Staffen che a limite i danni rimane sempre leader del mondiale prossimo appuntamento dunque tra una settimana in Qatar il saluto da parte del mento Thorgard ci vediamo a un prossimo video